ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik ospite di questa puntata il sindaco di castellamonte pasquale mazza innanzitutto sindaco la ringrazio per aver scelto la mia rubrica per dare le prime spiegazioni dopo questo trambusto mediatico nei suoi confronti benvenuto grazie grazie buonasera a tutti ma sì allora intanto partiamo dalla questione dalla questione dei cosiddetti furbetti io non mi ritengo un furbetto e adesso racconterò come sono andate le cose furbetto è colui che fa una cosa con il dolo con l'inganno a me non è andata così sostanzialmente le cose sono andate così io sono andato ad inaugurare il punto vaccini a castellamonte perché sono andato lì perché l'asl mi ha invitato come ha fatto con tutti i sindaci siamo arrivati lì e nel frattempo che siamo stati accolti è arrivata già una disdetta di una dose la dottoressa a mi ha proposto ha detto guarda una nostra paziente non può usufruire della dose tenete conto che l'ospedale di castellamonte e queste queste questo punto vaccinale e nella parte vuota dell'ospedale di castellamonte non c'era altre persone che quelle 4 5 che eravamo lì e l'unico a non essere vaccinato ero io perché i volontari croce rossa erano vaccinati il personale medico era vaccinato pertanto sono stato vaccinato dopo dopo che mi hanno fatto tutto l'interrogatorio nel frattempo è arrivata una seconda disdetta allora il punto è questo se in un quarto d'ora arrivano due disdette e ci sono gli over 80 ma è evidente che un over 80 può avere qualche problema di saluto di salute e alla fine e all'ultimo dice non ce la faccio non sto bene eccetera allora forse bisognava prima fare prima di iniziare i vaccini fare dei protocolli seri fare delle liste d'attesa barra nominare le riserve prima ma voi immaginate cosa vuol dire il sindaco esce e cerca una persona da vaccinare e se io avessi detto a tizio non andava bene perché si lamentava caio e viceversa quindi siccome la politica è sempre nell'occhio del ciclone io non mi ritengo un politico mi ritengo un amministratore però siccome anche l'amministratore è sotto l'occhio del ciclone io credo che di aver fatto bene a ancor di più oggi dopo i problemi di astrazeneca a me avessero proposto a me non è che hanno detto file il vaccino moderna o pizzer o astrazeneca quando mi hanno mi è stato inoculato il vaccino io non sapevo che vaccino era e quindi ma mi dicessero oggi fai l'astrazeneca farei l'astrazeneca perché ma vogliamo preservare i nostri giovani vogliamo dargli un esempio io preferisco avendo una figlia che si sperimenti su di me non su mia figlia ma di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando quindi i furbetti sono quelli che hanno fatto le dichiarazioni false non pasquale mazza io sono sono e me lo hanno dimostrato le persone sui social commessa io ho ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà di castellamontesi e non solo ma basta vedere sui social 4 sciacalli e il resto tutti dalla parte non del del genio della lampada ma dalla parte della verità e delle persone serie tutto lì io penso che sia il caso di abbassare i toni e di proporre delle soluzioni più che creare problemi questo il tema ecco cerchiamo di ricostruire piano piano quello che è successo perché una settimana fa un quotidiano locale un giornale locale ha detto c'è uscita la notizia che 15 persone 15 furbetti hanno falsificato la certificazione per accedere all'inuculazione del vaccino ecco questo giornale ha poi detto che tra questi 15 furbetti c'era anche lei però poi sono arrivate subito le smentite di luigi vercellino che è il commissario dell'asito 4 che ha dichiaratamente detto che è stato lui a invitarla a fare il vaccino per appunto dare il buon esempio ai cittadini ecco andiamo andiamo al passo successivo perché poi la diatriba è continuata ed è sfociata nella violenza perché ci sono state delle scritte nel davanti al comune di castellamonte cosa come l'ha vissuta questa situazione allora intanto io querelerò il giornale perché il titolo è un titolo ingannevole io sono stato tirato in mezzo in una questione che non per la quale non c'entravo cioè la si parlava di furbetti cioè da quello che ho capito è di gente che aveva sostanzialmente fatto delle dichiarazioni false io ho fatto dichiarazioni a nessuno non ho chiesto niente a nessuno è meno male che il il commissario vercellino a abbia messo giustamente il punto su questa cosa ma anche il generale figliuolo mi ha dato poi alla fine ragione su queste cose pertanto davvero la questione non esiste io penso questo che riferendomi a chi ha fatto le scritte davvero io sono sono mortificato non per me per la città di castellamonte che ha ancora delle persone del genere guardate lo dico davvero con con amarezza i cittadini di castellamonte non meritano avere personaggi del genere in città come ho sempre detto ricordatevi io combatterò sempre per togliere le poche mele marce dal cesto di mele buone che è la città di castellamonte lo farò sempre sempre pertanto questa è la mia linea guida questa questa è la mia è la mia morale e lo avete anche su questo abbiamo visto sui social cosa gli hanno detto io non ho mai negato il colloquio a nessuno se questo signore aveva qualcosa da dire poteva venire a dirlo a me è evidente che magari ci conosciamo bene e magari non sia venuto a dirmelo lo ha detto attraverso una vigliaccata e non è la prima ne abbiamo ricevuta già un'altra io ne ho ricevuta già un'altra nel 2014 lo ricordavamo prima mentre sono arrivato non è la prima quindi a queste persone io dico solo questo che voi le mani sul malloppo della città non le metterete mai non le metterete mai perché i cittadini ve lo vieteranno questa è la questione non le metterete mai e siete come la volpe che non riesce ad arrivare all'uva e quando non riesce ad arrivare dice che a gerba questa è la situazione ma adesso parliamo dell'interrogazione che solleverà il gruppo consigliere per castellamonte che dice che lei poteva poteva dare questo vaccino a un ultra ottantenne e che chiede chiarimenti sul sul progetto per la vaccinazione di castellamonte ecco lei può dire cittadini che il progetto è chiaro e che c'è chiarezza e trasparenza ci sarà chiarezza e trasparenza ma allora intanto quel progetto lì lo fa l'asl non lo facciamo non lo fa il comune di castellamonte lo ha fatto l'asl per cui io credo che la domanda debbano debbano farla all'asla però io qua un consigliere delegato un assessore che sicuramente daranno le risposte tecniche a questa a questa interrogazione noi la cosa che abbiamo fatto è quella di metterci a disposizione sempre faccio anche qua un passo indietro ma quando c'erano quel signore delle scritte soprattutto quando c'è stato da fare i posteggiatori per per mesi che arrivavano lì la mattina le 4 alle 3 le persone per per andare a fare i tamponi questo signore delle scritte dove era quei quattro che criticano dove erano quelli che fanno domande che fanno interrogazioni la lega che sostiene che io non debba fare il secondo vaccino dove erano queste sono le cose che interessano ai cittadini noi dobbiamo costruire non dobbiamo demolire siamo in un momento critico della 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 storia dei tempi non bisogna dividersi bisogna unirsi vedete io faccio un appello davvero anche anche a chi ha scritto a chi ha effettuato quella scritta per terra non è il momento di dividersi è il momento di unirsi dobbiamo cercare soluzioni non ai problemi non non crearne ulteriori non creare delle delle divisioni nella società questa pandemia lascerà uno strascico enorme sulle povertà sulle sul lavoro sul sul anche sulla psico sulla psiche delle persone lascerà degli strascici enormi ripeto l'ho già detto nei consigli comunali la sede ospedaliera di castellamonte potrebbe essere una risorsa da quel punto di vista anche per quanto riguarda l'utilizzo in relazione a questi a quello che che ci sarà dopo perché sicuramente soprattutto chi ha chi ha avuto il covid non se la passerà in due o tre mesi ma ci andranno anni per per risolvere i problemi e anche qui ci andranno anni sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico per chi l'ha passata veramente brutta oggi è una giornata importante io penso che bisogna essere uniti lo dobbiamo a coloro che sono morti a coloro che oggi sono ricoverati lo dobbiamo a quelle persone lì vergogna ma ripeto sono pronto ad accoglierti nel mio ufficio e con la diatriba politica di castellamonte comunque c'è una nota positiva ed è il rapporto che c'è tra lei e il consigliere dell'opposizione bartoli che ha espresso delle parole di amicizia nei suoi confronti e che la difesa ecco bartoli è più un amico o più un rivale politico assolutamente più un amico ma ci mancherebbe ancora guardi alla fine io credo che non ci sia la rivalità politica a un certo punto bisogna poi metterla da parte scrivere per terra è un personalismo non è una rivalità politica è anche come ho detto prima è una vigliaccata ma è una questione cioè si scende a delle bassezze che non che che non hanno alcun senso bartoli ha fatto una non è stato il solo guardate io ho visto che il vincenzo cerati che è il segretario di forza italia del di brea ha espresso solidarietà al sottoscritto quindi e tante persone per esempio io diversi amici anche di fratelli d'italia che mi hanno telefonato e mi hanno espresso solidarietà ovviamente quelli della mia parte politica sono solidali a prescindere non li nomino ma perché perché so che sono sono dalla mia parte mi conoscono meglio degli altri è evidente ma io ringrazio davvero tutti la mia parte politica ma anche gli altri che che non hanno che che mi hanno espresso solidarietà ringrazio soprattutto i cittadini è ovviamente un ringraziamento particolare a a dionigi bartoli perché comunque mi è mi è stato vicino io di questo lo ringrazio è ovviamente ancor più per lui le porte le mie porte sono più che aperte non per fare delle accozzaglie o per per lavorare assieme ognuno con le sue idee ma per lavorare assieme in questo momento critico questa dichiarazione molto importante ma questo odio a cos'è dovuto l'ho detto prima è purtroppo qualcuno non riesce a metterci le mani sul malloppo e quindi si sfoga perché io riesco sempre in qualche maniera io ma allora partiamo dal presupposto che non dietro di me ma a fianco a me ci sono uomini e donne che lavorano assieme a me noi lavoriamo assieme siamo un gruppo e purtroppo non riescono a scalfirlo ma chiediamoci perché se a livello nazionale oggi comunque c'è una tendenza di una certa cosa e a castellamonte si vota per una persona che è vero la lista era totalmente civica io l'ho detto l'ho ribadito lo dirò sempre però io sono comunque sia io sono evidente che io sono iscritto al pd lo sanno tutti ma è altrettanto evidente che i cittadini votano la persona e è a mio modo di vedere guardate questo è un male della società è una cosa brutta che sto per dire si andrà sempre di più a votare verso la persona non è più il momento degli ideali secondo me gli ideali sono finiti col secolo scorso però però bisogna a mio modo di vedere non personalizzare troppo ma fare dei lavori di squadra e questo vale sia per la politica è una cosa che a me interessa tantissimo perché per la quale sto lottando e sto lavorando per il territorio noi come territorio canavesano siamo molto indietro su tutta una serie di aspetti da quello commerciale a quello turistico eppure abbiamo tantissime risorse che sono ferme lì cosa abbiamo in meno rispetto al trentino cosa abbiamo in meno abbiamo le montagne come il trentino abbiamo abbiamo forse quella è una ragione a statuto speciale quindi hanno qualche soldino in più ma impegniamoci ragazzi i soldi se li cerchiamo li troviamo Castellamonte io questo lo sembra di Castellamonte da sola non va da nessuna parte soprattutto su questi temi io sto lavorando tantissimo assieme ad altri sindaci come gruppo sapete benissimo che siamo nelle tre terre stiamo cercando di fare delle cose sul canale di Canuso stiamo cercando di fare delle cose come unione montana e poi ci sono anche altri altri altre aggregazioni che stiamo cercando di mettere in piedi per cui tutti dobbiamo lavorare per un obiettivo e su questo siccome io sono convinto che se non siamo all'anno zero poco ci manca abbiamo delle distese davanti per poter lavorare lavoriamo assieme e tutti trarranno dei benefici questo è il concetto su questo dobbiamo lavorare noi adesso parliamo di una sua iniziativa che sta andando molto bene e che ha ricevuto anche il plauso dei cittadini rivarolesi e non solo Castellamonte Schott da come è arrivata questa idea? ma allora intanto come dico Castellamonte Schott l'ha seguita soprattutto Teodoro il vice sindaco Teodoro Medaglia è nata sempre dal gruppo quando purtroppo come questa pandemia quando arrivano delle difficoltà bisogna fare di necessità virtù e io ce l'avevo in testa da un bel po' questo tipo di soluzione e ne parlavamo e ne parlavamo e ne parlavamo alla fine siamo riusciti a mettere un po' di soldini da parte abbiamo riscontrato le adesioni da parte dei commercianti la sinergia la sinergia quella è la parola chiave sinergia abbiamo fatto sinergia e abbiamo tirato tutto io so che molti negozi stanno vendendo so che arriva anche stiamo consegnando fuori anche fuori provincia della roba quindi più di così io non posso che essere soddisfatto i prossimi obiettivi di Pasquale Mazza per Castellamonte? i prossimi obiettivi li stiamo sempre di tutta l'amministrazione i prossimi obiettivi dell'amministrazione sono quelli di abbellire la città noi quest'anno stiamo puntando ad abbellire la città ovviamente l'abbellimento è un abbellimento estetico ma è anche un abbellimento culturale è anche un abbellimento commerciale Castellamonte Shop è anche una serie di collaborazioni con enti un po' più grossi noi siamo nelle mani purtroppo del covid però non demordiamo non perdiamo la speranza noi stiamo programmando come ho già avuto modo di dire dopo Pasqua partiranno alcuni altri cantieri alcuni sono partiti alcuni altri partiranno in questi giorni hanno ultimato gli asfalti per quanto riguarda le opere di compensazione di quella centrale idroelettrica che è stata costruita per cui insomma a Sant'Antonio abbiamo fatto un bel po' di bei lavoretti per cui insomma stiamo lavorando su tutti su tutti questi temi qua ovviamente noi speriamo di fare la mostra della ceramica che come abbiamo come credo avete avuto anche modo di vedere è una una mostra che come progettualità ha il ritorno in rotonda ha la dedica ad alcuni dei personaggi famosi che ci hanno lasciato circa 20 anni fa e quindi insomma non voglio scoprire proprio tutte le carte anche perché credo sia giusto che ne parli l'assessore competente che è Claudio Betaz però insomma sono contento del gruppo il gruppo sta lavorando bene assieme ecco abbiamo preso due milioni e mezzo ulteriori due milioni e mezzo per lo scolmatore per il canale scolmatore per cui ecco e quella è una grande conquista per me perché io non volevo un canale scolmatore a cielo aperto perché toglieva la terra ai contadini e perché costava troppo fare le manutenzioni a quei due milioni inizialmente stanziati se ne sono aggiunti due e mezzo per cui faremo il canale scolmatore coperto fino all'orco e avremo il centro della città completamente al sicuro stiamo facendo anche delle cose con l'unione montana parlo soprattutto qua parlo soprattutto di piani di manutenzione ordinaria stiamo spendendo un bel po' di soldi nelle manutenzioni diciamo così ambientali qua ci sono due e duplice la cosa ci sono le squadre forestali che ci danno una mano a pulire i sentieri anche qui ci sono tutta una serie di sentieri mappati molto belli in valle sacra per cui cominceremo a proporre anche queste queste cose dal punto di vista turistico e dall'altra parte invece abbiamo la riparazione di un po' di frane la sistemazione insomma del territorio per evitare lo spopolamento ecco su questo su questo noi stiamo stiamo lavorando molto quello sì perché io poi i comuni non hanno grosse grosse risorse ma io sono convinto che che non è che siamo proprio senza soldi se si utilizzano bene le poche risorse comunali e se si va alla ricerca delle risorse dove ci sono ci si possono fare dei belli dei belli interventi abbiamo alcuni stabili del comune che sono da da sistemare e stiamo progettando anche li stiamo progettando dei percorsi cittadini su cittadini ma anche delle frazioni percorsi ceramici stiamo stiamo abbiamo appaltato una serie di lavori anche per le scuole per cui se al termine della scuola ci saranno diversi interventi parliamo tra progettazioni e interventi reali di circa 600 mila euro per cui stiamo facendo questi lavori qua prova da fare ce n'è da fare ce n'è allora vorrei fare anche una domanda a livello nazionale lei ha detto di essere iscritto al partito democratico giusto? e vorrei chiedere cosa ne pensa del nuovo segretario Enrico Letta ma io Enrico Letta lo conosco lui è stato capolista alle europee nel 2009 mi sembra qua e quando è venuto in Canavese in realtà l'ho portato in giro io credo non mi ricordo se siano stati nello stesso periodo anche consiglieri nazionali del movimento giovanile dell'ADC assieme per cui io ho un'ottima impressione insomma una persona seria che di questi tempi vuol dire molto è una persona competente che di questi tempi vuol dire ancora di più per cui io ritengo che ci siano delle buone basi per partire ovviamente con questo non voglio dire che Zingaretti non andava bene Zingaretti a me era anche simpatico quindi voglio dire è stato lasciatemelo dire è stato fatto fuori dal fuoco amico e questa roba qua a me dispiace tantissimo e nel partito democratico bisognerà evitare il fuoco amico anche lì bisognerà lavorare e remare tutti per andare dalla stessa parte Faccio ancora un'ultima domanda di questo governo Draghi cosa ne pensa visto una certa discontinuità rispetto al governo precedente? Ma per alcune cose sì per altre no io credo che intanto penso bene le cose positive stanno continuando rispetto a quelle che erano iniziate con il governo Conte Il cambiamento l'ho visto soprattutto sull'accantonamento di Arcuri e sulla nomina del generale Figliuolo Beh qua sto notando che insomma almeno per quello che sento sto notando che si sta accelerando su tutta una serie di problematiche Noi torniamo all'inizio ai vaccini noi usciremo da questi problemi quando saremo tutti vaccinati pertanto davvero bisognerà che senza fare polemiche senza senza cercare di accalcarsi c'è un piano bisognerà seguirlo e ripeto la mia sensazione è questa giustamente il generale Figliuolo ha detto ai medici se avanzate dosi uscite fuori e chiamate è evidente che essendo stato nominato qualche settimana fa non è che puoi cambiare il mondo in una settimana però però io credo che si stia preparando un piano serio con delle riserve io sono convinto che per non sprecare nessuna dose di vaccino servono le riserve questo è questo è e questo avrebbe evitato anche a me che avevo detto che mi sarei vaccinato quando sarebbe arrivato il mio turno avrebbe evitato anche a me tutte queste polemiche tutte queste problematiche guarda io sono mica contento che avvengono tutte queste cose però vorrei vedere coloro che mi criticano sempre quattro sono eh quei quattro che mi criticano cosa avrebbero fatto al mio posto Sindaco io la ringrazio per avermi concesso questa intervista se vuole fare ancora un appello ai cittadini di Castellamonte prego ai cittadini di Castellamonte io l'appello che faccio è quello di essere pazienti cerchiamo di essere pazienti cerchiamo di comportarci bene mettiamo le mascherine laviamo le mani facciamo le cose che ci sono state dette di fare con serietà e con calma a Castellamonte non ci sono abbiamo due o tre problematiche ma non non abbiamo grandissime grandissime problematiche io ho mai visto nei negozi assembramenti o che pertanto se tutti la viviamo in maniera tranquilla secondo me prima ne usciamo prima il signore che ha fatto la scritta è uscito durante il coprifuoco ma voi immaginate se i carabinieri lo beccano ma che figura ci fa ma dobbiamo per forza scendere a tanto siamo seri siamo seri siamo tranquilli lavoriamo tutti assieme e ripeto la porta dell'ufficio del sindaco Pasquale Mazza è sempre aperta a tutti e io sono aperto al dialogo con tutti grazie e buona serata grazie a tutti per la vostra attenzione ci vediamo alla prossima puntata di RockPolitik grazie a tutti